Si è avvarso dalla facoltà di non rispondere, ovviamente poi sono state chieste dalla procura le misure cautelari. Emanuele Cipressi ha scelto la via del silenzio nell'interrogatorio di convalida dell'arresto che si è svolto nelle carcere di Madonna del Freddo davanti al GIP del Tribunale di Chieti Luca De Ninis. Il 24enne accusato dell'omicidio del quarantenne musicista Fausto Di Marco a seguito di una lite scoppiata all'interno di un circolo privato di Chieti Scalo come racconta il suo avvocato Roberto Di Loreto e provato da quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica. Beh, molto provato, scioccato, è chiaro che è una vicenda dolorosa e triste per tutti. Forse anche per questo non ha voluto smentire o confermare il racconto della supertestimone che ha portato all'arresto del ragazzo. La donna ha raccontato di aver rifiutato l'approccio di Di Marco il quale le avrebbe lanciato contro un bicchiere finito contro Cipressi, amico della ragazza che poi avrebbe reagito dando il là alla lite finita in tragedia. L'autopsia sul corpo della vittima ha evidenziato una ferita profonda al collo con margini sfrangiati che sembrerebbe confermare la prima ipotesi degli investigatori cioè che a causare la morte di Di Marco sia stato un coccio di bottiglia che gli ha reciso la carotide di sanguandolo. Ora spetterà il GIP decidere quale misura cautelare adottare. Io ritengo che la vicenda possa sufficientemente essere controllata in un ambiente domestico. Intanto nel pomeriggio alle 15.15 nella cripta della cattedrale di San Giustino saranno celebrati i funerali di Di Marco. L'avvocato di Loreto, l'unico ad aver parlato con Cipressi, rivolge un pensiero ai familiari della vittima per una tragedia, dice, che pone interrogativi a tutta la comunità. Ora il suo stato d'animo credo che sia rappresentativo anche per un dolore, per il dolore che i familiari stanno avvertendo e sentono.